anche giorgia meloni e silvia toffanin finiscono striscia la notizia per la precisione al primissimo posto della classifica dei nuovi mostri che unisce il meglio e il peggio della settimana televisiva italiana questa volta però non l'intervista andata in onda verissimo quanto la versione tagliata d'arte fatta circolare da qualche buon tempone sui social la leader di fd saluta la conduttrice di canale 5 che le chiede ci diamo del tu si assolutamente ci siamo anche vestite in tono risponde la meloni o il montatore elimina ogni domanda e risposta e si procede solo per sospiri sguardi interrogativi mugugni silenzi più che imbarazzati lunghi lunghissimi secondi di gelo i sorrisi del caso si fanno sempre più tirati fino ad arrivare a musi lunghi e addirittura alle braccia alzate in segno di resa della toffanin non ti voglio vedere più afferma alla fine la meloni raggelando la conduttrice mediaset che mastica amaro si ride l'idea è geniale realizzata alla perfezione peccato solo che nel mare magnum della rete sicuramente qualcuno la prenderà per vera e magari ci ricamerà sopra per accusare la meloni di cafonaggine in questo periodo di fango gratuito in fondo ci manca solo questo